la seduta del 12 marzo il consiglio regionale ha completato l'esame degli 85 articoli del provvedimento di riforma urbanistica riservando la votazione finale e le dichiarazioni di voto alla prossima seduta in una pausa dei lavori l'ufficio di presidenza e numerosi consiglieri hanno ricevuto il comitato che propone di unire gli ospedali di borgosesi e borgomanero la delegazione ha presentato la petizione con 10.000 firme per fare delle due strutture un unico polo ospedaliero relazione del difensore civico il difensore civico regionale antonio caputo ha illustrato all'assemblea la relazione annuale dell'attività svolta nel corso del 2012 le richieste di intervento sono state quasi 3.000 in un anno e nel 29 per cento dei casi si è giunti alla soluzione del problema con la produzione del documento atteso dal cittadino solo nell'1,8 per casi nonostante le sollecitazioni non ci sono stati riscontri da parte della pubblica amministrazione il core com realtà e prospettive le attività svolte quelle programmate nel 2013 sono state al centro dell'incontro core com tra realtà e prospettive presentata anche la ricerca la tv che vorrei realizzata da l'ires piemonte per capire cosa chiedono i telespettatori e quale forza di penetrazione sul territorio abbiano le emittenti locali in conclusione sono stati diffusi i dati sul monitoraggio del pluralismo politico istituzionale in tg ed extra tg svolto in occasione delle recenti elezioni politiche per il tibet e i diritti umani l'associazione per il tibet e i diritti umani ha presentato a palazzo lascaris il programma delle iniziative per il 2013 sono intervenuti il presidente giampiero leo e la vice presidente gianna pentenero la data scelta per la presentazione ricorda il 63esimo anniversario dell'occupazione cinese in tibet che pechino definisce pacifica liberazione ma gli attivisti per i diritti dei tibetani descrivono come una sistematica repressione di questo popolo il re l'architetto un percorso immaginario ma suggestivo tra i palazzi della torino del diciottesimo secolo la mostra il re l'architetto viaggio in una città perduta e ritrovata sostenuta dal consiglio regionale che ha promosso la pubblicazione del catalogo e allestita all'archivio di stato di torino fino al 30 aprile fra le principali architetture evocate c'è la casa studio di filippo juvarra i palazzi del potere comunale statale e religioso e le residenze extra urbane di stupinigi venaria e rivoli grazie a tutti grazie a tutti